Ho voluto in qualche modo venire qui a rendermi conto di persona di questo importante lavoro che è stato fatto sull'acquedotto di Livorno e ho voluto soprattutto stringere la mano a questi ragazzi che sono straordinari, hanno fatto un lavoro veramente notevole, lavorando durante tutta la notte e soprattutto evitando che la città si trovasse senza acqua, cose che purtroppo in passato abbiamo visto e hanno prevenuto facendo un lavoro di progettazione importante, mettendo quindi dei serbatoi che hanno permesso durante la fase di interruzione di questa condotta di alimentare il resto della città e adesso siamo alla conclusione, mi sembrava una cosa bella venire qui e applaudirli perché troppo spesso si applaude coloro che invece non fanno le cose nel modo dovuto e loro che sono secondo me i veri supereroi che vanno messi in evidenza, si meritavano semplicemente una stretta di mano e io sono venuto qui volentieri a dargliela a tutti loro. Grazie, grazie.